Buongiorno a tutti e a tutte, vi invito a prendere posto perché il tempo scorre e la giornata è piena e non ci dobbiamo stancare prima di cominciare. Allora, io do a nome della LED il benvenuto a tutti voi che avete scelto di venire a trascorrere questa giornata formativa nella nostra struttura residenziale che ospita persone con disagio psichico e do il bentornato a chi già l'anno scorso ha partecipato alla prima edizione del nostro percorso scientifico-culturale che stiamo cercando di intraprendere per aggiungere alla funzione psico-riabilitativa e assistenziale che svolge la struttura, aggiungere anche la ricerca e lo studio tant'è che stiamo dando vita, è appena neonato, un centro studio e ricerca LED sempre all'interno della struttura a cui saranno componenti professori universitari, medici, giuristi, psicologi, pedagogisti tutti coloro i quali hanno voglia di fare ricerca, di portare statistica e di svecchiare e comunque dare nuova linfa a questo ambito della medicina e del sociale che in questo momento storico avrebbe bisogno di luci, di riflettori accesi in maniera abbastanza evidente in quanto stiamo vivendo un tempo di rivoluzione sociale ma soprattutto economica, soprattutto politica per cui sicuramente è necessario porre una attenzione particolare è quello che noi oggi intendiamo fare attraverso questo percorso formativo anche se l'anno scorso ci trovavamo nel periodo della pandemia e della post pandemia per cui abbiamo cercato di analizzare il fenomeno pandemico e le conseguenze connesse a quel periodo di solitudine, di frustrazioni e quanto abbiano influito sulla psiche di tutti noi esacerbando magari qualche disturbo latente che magari abbiamo tutti ma che quando trova terreno fertile esce fuori in maniera preponderante quest'anno invece come avete potuto in questo frangente di attesa constatare all'interno della carpetta informativa abbiamo focalizzato abbiamo voluto investire le nostre energie sul tema scottante della salute mentale dentro e fuori le mura carcerarie fuori, fuori, società appena si esce dal carcere prendendo una frase in prestito di Dostoievski e di Luca Interlandi che me l'ha citata ieri la civiltà di un popolo si deduce dalla qualità delle carceri come disse Dostoievski nel delitto e castigo sotto questo aspetto non credo che noi ci possiamo definire un popolo civile perché purtroppo ci sono pochissime isole felici cioè carceri, istituti penitenziari dove ci sia una qualità di vita consona quella che è la dignità della persona qualunque reato egli abbia commesso ma soprattutto la problematica verrà fuori oggi dalle varie relazioni dei nostri illuminati relatori medici, giuristi, professori la tematica del fenomeno suicidario purtroppo in grandissima attualità dentro le mura come diciamo è anche fuori dalle mura per cui bisogna investire nella prevenzione e bisogna solleticare il governo, i governi perché investano in risorse umane in risorse strutturali affinché si possa prevenire ma soprattutto si possa cominciare a divulgare la cultura del benessere mentale così come quella del diabete così come quella dei disturbi cardiovascolari così come quella dei tumori perché se guardiamo le casistiche che adesso anche il dottore Alfonso Cipolla tratterà questo argomento e credo che porterà dei numeri ecco dei numeri possiamo constatare che bisogna fare prevenzione assolutamente altrimenti non ci sarà più speranza per i nostri giovani che saranno la futura classe dirigente e che prenderanno in mano questo paese bisogna cominciare dalle scuole bisogna che il governo che i ministeri preposti facciano siano moderni se siamo Europa che Europa sia che siano predisposte delle equip multidisciplinari nelle scuole affinché si possa fare prevenzione sin da bambini quando il disagio adolescenziale è ancora latente ne parliamo ne parliamo tanto io mi ricordo che anni scemi nel 90 cominciai a lavorare nell'equip socio-psicopedagogica in tutte le scuole dell'obbligo e abbiamo lavorato tanto abbiamo fatto tanto credo tutto il possibile eravamo in pochi sempre poche risorse ma c'eravamo oggi dopo insomma qualche anno non ci sono stati più fondi disponibili per cui questa equip multidisciplinare che affrontava per tempo le tematiche adolescenziali infantili il burnout genitoriale da cui poi ovviamente prendono vita i disagi familiari individuali e collettivi non mi dilungo oltre perché abbiamo veramente tanto da imparare tanto da su cui riflettere oggi per cui passo immediatamente la parola ai saluti a coloro i quali faranno i saluti istituzionali l'avvocato Pietro Stimolo ci fa il suo saluto perché oggi il sindaco non è potuto essere presente prego Pietro grazie buongiorno a tutti io vi porto i saluti del nostro sindaco oggi non presente dell'amministrazione comunale di cui faccio parte i miei complimenti alla LED per essere sentinella nel nostro territorio nel nostro comune di Niscemi oramai da anni peraltro avete festeggiato il compleanno dopo qualche giorno se non sbaglio segno che comunque questa realtà nel nostro territorio è presente e lavora anche con questo convegno complimenti e congratulazioni anche per la scelta del tema di grande importanza di forte impatto perché a vari livelli interessa un po' tutti a livello professionale o a livello istituzionale noi stessi come amministrazione abbiamo necessità di strutture come la LED che siano di supporto di accoglimento per coloro i quali hanno bisogno noi siamo la dottoressa Avila l'assessore Avila mi darà conferma come noi settimanalmente siamo chiamati a firmare TSO quindi probabilmente ecco probabilmente anzi molto sicuramente la comunità non ha coscienza di ciò di quello che è il malessere che c'è in ogni comunità non soltanto a Niscemi naturalmente però noi amministratori che veniamo chiamati di notte di giorno a tutte le ore del giorno della notte per firmare un TSO ecco è drammatico scoprire che ci sono realtà di sofferenza di questo tipo e anche come dicevo poco anzi poi chiudo perché non mi voglio dilungare il tema del convegno di quest'oggi è di drammatica realtà perché la salute mentale è dentro o fuori le mura ecco non è un qualcosa di poco conto perché dentro le mura purtroppo lo devo dire anche per esperienza professionale sono pochissimi gli istituti di pena che sono abilitati a questo ricordo solo il pagliarelli di Palermo più qualche altra piccola struttura che accoglie i colori quali hanno necessità di un supporto ma purtroppo e lo devo dire con coscienza in questi casi è comunque sempre un soggetto che deve scontare la pena non un soggetto che deve essere aiutato quindi veramente passi avanti se ne devono fare questi convegni che benvengano per attrezzare anche gli operatori dove per operatori ritengo che siamo tutti quanti dalla parte istituzionale dalla parte professionale ma anche la parte la nostra comunità è semplice cittadino perché chiunque si può trovare ad avere un familiare un parente stretto un amico stretto che ha bisogno di questo aiuto grazie e buona continuazione ringrazio il vice sindaco stimolo e invito la dottoressa Avila in qualità di assessore ai servizi sociali grazie dottoressa buongiorno anch'io porto il saluto da parte dell'amministrazione e mi complimento ancora una volta per questo bellissimo convegno l'anno scorso ci sono state è stato veramente interessantissimo da parte vostra sono complimenti perché perché attenzionare la salute mentale non è da tutti la salute mentale spesso non viene attenzionata viene sottovalutata è qualcosa che si ha dentro le mura dentro le case ci sono tantissimi problemi spesso non vengono attenzionati e restano in silenzio però è un problema che esiste esiste tantissimo ha un notevole impatto a livello familiare ma soprattutto a livello sociale io sono una pediatra e spesso nei convegni ultimamente abbiamo avuto da parte dei neuropsichiatri infantili un grido di allarme da parte di tutti i giovani c'è un aumento notevole per quanto riguarda i casi di suicidi di autolesionismo di forme di depressione si è stato un po' imputato al covid al fatto del covid sì che ha accentuato ma il covid ora è passato i problemi ci sono e sono sempre presenti e sono sempre in aumento quindi c'è qualcosa che non va qualcosa che non va nella nostra società qualcosa che non va nelle nostre famiglie qualcosa che rende questi giovani molto fragili io vorrei molto puntare su questo e mi piace oggi vedere che nel titolo della relazione c'è l'edizione prevenzione io penso di mi auguro che qualcosa del genere incominci già ad esserci come prevenzione della salute mentale perché la salute mentale al pari che come aveva detto anche la dottoressa Rizzo la salute mentale significa benessere dell'induito non solo fisico ma la salute mentale è importantissimo soprattutto per i nostri giovani perché se questi problemi vanno ad aumentare vanno ad accentuarsi noi ci ritroveremo con tanti ragazzi ad avere queste problematiche ed credetemi è una cosa gravissima quindi noi operatori noi amministratori noi tutti dobbiamo puntare sulla prevenzione di questi problemi dobbiamo riuscire a capire quali sono i problemi perché succede questo perché sta succedendo questo e cercare quantomeno di fare delle proposte a livello amministrativo a livello locale per cercare quanto più possibile di andare a individuare e prevenire questo problema che credetemi sta diventando un problema di una certa entità io mi auguro che oggi ci siano veramente da questo convegno degli spunti per riuscire a fare qualcosa quantomeno per iniziare un nuovo percorso grazie e complimenti ancora per questo convegno grazie grazie Assessore invito a un saluto il direttore del modulo dipartimentale di Gela a cui noi facciamo riferimento il dottore Arancio psichiatra per cui anche sì sì prego buongiorno grazie per avermi invitato mi fa tanto piacere io faccio complimenti alla led perché attualmente in provincia di Caltanissetta è l'unica struttura che fa cultura di salute mentale quindi questo è un merito sicuramente allora signori io sono qui diciamo quasi per caso perché la mia la mia carriera era terminata avevo fatto avevo abbandonato la salute mentale per dieci anni poi ho deciso di ritornare perché praticamente sono socio fondatore della salute mentale nella mia città e correvamo il rischio di chiudere questo servizio come diceva come diceva qualcuno la civiltà di un popolo si vede dai servizi che attiva ma praticamente ci sono alcuni servizi specialmente nel mondo sanitario per carenza per carenza non per malavolontà degli amministratori per carenza di medici quindi qui ci dovrebbe essere una riflessione lunghissima praticamente molti servizi stanno chiudendo la salute mentale è colpita in modo particolare se voi considerate che il centro salute mentale di Gera che io dirigevo vent'anni fa ed era costituito da sette medici quando sono ritornato ce n'era soltanto uno quindi la situazione è drammatica ma non è drammatica soltanto a Gera o la stessa cosa a Caltanissetta c'è il centro salute mentale di Caltanissetta c'è solo un medico diciamo che nel centro Sicilia la situazione è diciamo è equiparabile le differenze naturalmente sono a macchia di leopardo dove più dove meno ma c'è una carenza enorme si salvano un po' le città metropolitane sede di università ma il resto è il deserto cos'è che si può fare? Nella mia precedente attività lavorando con la commissione tecnica c'era una proposta di modificare le piante organiche perché se medici non ce ne sono e per formare un medico occorrono dieci anni quindi non è che possiamo aspettare dieci anni Alfonso l'unica possibilità noi abbiamo un numero di psicologo psicoterapeute io ne ho contate nel covid 57 io avevo detto al direttore generale di incominciare ad arruolare queste figure perché in un centro salute mentale accanto agli psichiatri che sono pochi ma ci sono poi anche i fisioterapisti i terapeuti della riabilitazione psichiatrica che sono altre figure di cui dovrebbero essere dotate le piante organiche che esistono li fanno laureare però non c'è forse nelle grosse città le hanno introdotte le piante organiche ma per il resto non esiste quindi c'è tutto questo personale che potrebbe essere utilizzato per dare un servizio adeguato diciamo nel centro Sicilia in provincia di Caltanissetta noi diciamo gestiamo fatemi passare questo termine gestiamo la salute mentale del sud della provincia noi dovremmo avere ambulatori a Gela Niscemi Mazzini e Butera a Malapena da poco siamo riusciti ad attivare ma con grossissimi sacrifici l'ambulatorio di Niscemi perché è la città più grossa ma con enormi sacrifici perché non è che che sia facile perché spesso Gela resta solo con un medico e praticamente poi arrivano diciamo urgenze ed è difficile poter dare poi tra l'altro è aumentato molto il lavoro con i tribunali le procure perché purtroppo i nostri pazienti delinquono ed è diventato in una maniera esponenziale che ci porta una difficoltà enorme e qui c'è un altro problema enorme che le comunità terapeutiche o le case alloggio poi dobbiamo inserire con diritto di precedenza i pazienti che hanno determinato dei reati e questo ci porta diciamo nel nostro lavoro ad avere difficoltà di inserire poi i pazienti che hanno proprio il bisogno per riprendere il cammino e ritornare a vivere la loro vita la loro vita quotidiana quindi non è un periodo di rose fuori l'ultima cosa e poi la taglio una volta dove è il vice sindaco del comune di Niscemi praticamente una volta dieci anni fa quando facevamo un TSO io facevo una riunione al mio servizio per chiederci che cos'era che era successo perché il TSO è un parlamento del CSM ora mi dice che firma tanti il TSO questo è un dramma perché significa che i servizi di salute mentale non funzionano ma se non ci affrettiamo a riqualificarli mettendo personale che i medici non ce ne sono ma un'equip diciamo come si dice ora multidimensionale fatta dal medico fatta dagli psicologi delle terapiste della riabilitazione psichiatrica forse qualcosa si può fare e c'è una speranza però bisogna fare presto grazie e scusate il mio grido dall'altro grazie a te dottore Arancio allora possiamo dare avvio agli interventi allora invito a dare un saluto istituzionale il presidente del consiglio dell'ordine degli avvocati chiedo scusa grazie a tutti sono Angelo Licata il segretario dell'ordine degli avvocati di Gela porto il saluto dell'ordine degli avvocati di Gela del quale c'è una nutrite autorevole bravissima rappresentanza di colleghi niscemesi la dottoressa Berenato mi può dare conferma quindi sono onorato di aver conosciuto questa oggi questa realtà davvero importante e positiva ringrazio ho l'obbligo di ringraziare Francesco Gianni perché mi ha mi ha chiesto parecchio tempo fa che ci fosse anche il logo dell'ordine degli avvocati perché noi operatori del diritto ci rendiamo conto che anche dal puntista legislativo e l'applicazione e la legge e quindi il giudice poi sarà più brava di me ad illustrare si può fare prevenzione come diceva l'assessore siamo stati abituati in modo errato a considerare chi delinque è quasi un soggetto da escludere e da emarginare e da rinchiudere così non facesse più danno quindi qui il rischio serio no rischio concretamente il danno di malattie psichiatriche che all'interno di una detenzione disumana scaturisce quindi che cosa già dal puntista legislativo tra le tante critiche che noi operatori facciamo alla cartabbia c'è uno spiraglio nel senso che con le ultime innovazioni legislative si tende ad applicare misure alternative alla detenzione come si suol dire adesso mi pare che c'è uno spazio ampio tra i relatori alla giustizia riparativa per un concetto semplicissimo per noi operatori la rieducazione o la punizione non può passare solo attraverso la detenzione anche il pagamento di una senzione pecuniaria è una punizione è una rieducazione o anche un percorso riabilitativo di riparazione alla società attraverso la cura del verde o attraverso attività di solidarietà cioè restituire alla comunità il danno che si è procurato ciò tende a svuotare le carceri che devono diventare un estrema razio ma anche lì chi è detenuto va visto con un occhio diverso è un soggetto che ha sbagliato e che va rieducato è chiaro che se le condizioni di detenzione vengono riservate a soggetti in un numero inferiore praticamente è possibile parlare di una detenzione più civile più a misura d'uomo perché mi riallaccio sempre se non si fa prevenzione attraverso strumenti legislativi e strumenti punitivi è chiaro che poi la società dovrà pagare un prezzo enorme anche in termini di salute mentale di devianza perché la devianza non è solo quella della delinquenza o della violazione della legge la devianza è anche un percorso che esce dalle vie ordinarie di una società di diritto di una società democratica quindi io ringrazio voi per l'invito e per aver dato la possibilità al Consiglio dell'Ordine di poter dare il proprio logo e la propria partecipazione a questo importante evento perché poi c'è una sinergia tra tante rappresentanze di questo territorio mi complimento ancora una volta per il territorio di Nisceme per questa realtà davvero splendida che è innovativa e mi auguro che possano esserci anche altre realtà nonostante il quadro purtroppo triste che ci ha dipinto il dottore Arancio però ecco magari dal punto di vista delle realtà privatistiche si può fare un'attività di sostegno e di supporto a ciò che il pubblico purtroppo non riesce a fare vi ringrazio e vi auguro buon lavoro facendovi ancora complimenti grazie farà la prima relazione che ha per tema analisi organizzativa multidimensionale il disagio psichico dentro e fuori le mura buongiorno a tutti buongiorno a tutti grazie per essere intervenuti a questo convegno molto importante che come ha detto la lista precedentemente tratta un tema molto delicato e complesso invito i relatori Monaco la Bernardini e tanti altri che hanno partecipato e che hanno accolto il nostro invito perché hanno dimostrato un interesse molto importante su questo tema introduco il mio intervento che sarà comunque breve per dare spazio agli altri affermando che parlando un po' di quella che è l'idea del centro studi e ricerca che abbiamo voluto istituire qui alla cooperativa LED intanto anche in questo caso ringraziamento a Filippo Toscano e Evelyn che sono i titolari della cooperativa che hanno permesso e hanno dato fiducia per la creazione di questo progetto importante del centro studi e ricerche che non è una cosa ordinaria che è una cosa abbastanza impegnativa e l'idea di creare questo centro è nata dalla necessità di approfondire quelle che sono le tematiche del territorio le tematiche inerenti al disagio la sofferenza però da una prospettiva come vedrete anche nella carpetta rispetto alla presentazione del centro con un'impostazione metodologica un po' diversa noi lavoriamo e la LED da questo punto di vista ha questa caratteristica non è settoriale non è campanilistica ma ha una visione molto ampia e innovativa rispetto alle problematiche e spende investe in ricerca da questo punto di vista è necessario affrontare le problematiche con una metodologia nuova che parte dalla teoria dell'interazione simbiotica cioè una metodologia che mi sinatto io tempo fa con altre organizzazioni che prevede appunto lo studio di una problematica da diversi punti di vista per ogni disciplina quindi psicologia economia sociologia psichiatria si studia l'oggetto di ricerca si studia il problema però poi superando quelli che sono i vecchi baronaggi universitari la 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 superiorità di una disciplina rispetto a un altro quindi i campanilismi campanilismi assolutamente inadeguati si ci mette assieme un tornantavo e si comincia a vedere quelli che sono i dati quelle che sono le informazioni raccolte perché chiaramente l'individuo i rapporti tra individuo e ambiente l'interazione non sono non possono essere valutate analizzate studiate da un solo punto di vista abbiamo bisogno di più chiavi di lettura il disagio psichico come ci insegna Basaglia non è un qualcosa che riguarda solo la malattia riguarda solo la diagnosi ma in primis nasce dal contesto sociale da contesti degradati da problemi economici da situazioni familiari di disagio da situazioni devianti da là nasce la problematica psichica la maggior parte dei casi sono fattori ambientali che poi scaturiscono il disagio e quindi è fondamentale avere la capacità di analizzare i fenomeni in maniera complessa e scientificamente adeguata perché senza questa valutazione complessiva non riusciamo a ottenere e non riusciamo a prevedere interventi idonei alla risoluzione dei problemi il centro ha una sua organizzazione chiaramente prevediamo anche commissioni tematiche che studieranno i diversi temi sono già in previsione altre iniziative per settembre ottobre e prevediamo anche la creazione di una collana scientifica editoriale con un editore che si occuperà appunto di questi temi periodicamente semestrale e stiamo lavorando attualmente su due progetti di ricerca che usciranno con due fotografie nel prossimo inverno perché il tema di questo convegno abbiamo insistito molto su questo tema perché intanto come comunità alloggio e in generale le comunità alloggio in Sicilia accolgono molti pazienti molti utenti con autori di reato e il paziente con autore di reato che esce dalla realtà carceraria spesso e volentieri è difficile da gestire da inserire eccetera perché appunto esce fuori da una realtà carceraria nella quale al cui interno non è stato fatto nessun progetto non è stato fatto nessun percorso terapeutico riabilitativo quindi è un soggetto tabula rasa che esce dal carcere e viene inserito in comunità per esempio il trattamento che noi facciamo all'interno nelle nostre comunità è praticamente considerare l'utente non come autore di reato ma un utente che ha bisogno di seguire un percorso terapeutico a noi non interessa il reato che ha compiuto come terapeuti a noi interessa intervenire sui problemi di disagio dell'utente altra cosa fondamentale perché faccio un po' un excursus che ci ha portato a scegliere questo tema è la problematica all'interno delle carceri all'interno delle istituzioni peritenziarie perché la riflessione che abbiamo fatto nel corso del tempo è numero uno l'istituzione peritenziaria è un'istituzione totale quindi è esattamente come il manicomio cioè né più né meno ha delle regole che sono giustamente molto fisse determinate però all'interno ovviamente si creano le dinamiche dell'istituzione totale in più abbiamo tutto un problema a livello strutturale sovraffollamento un numero eccessivo di detenuti prassi di comportamento che poi all'interno del carcere ovviamente i vari gruppi di detenuti seguono come sappiamo tutti e quindi praticamente queste condizioni strutturali di sovraffollamento eccetera già creano dei problemi perché due tipologie di persone entrano nel carcere possono entrare o le persone che hanno già un disagio psichico oppure in molti casi è il detenuto che entra in carcere che poi presenta un disagio psichico ed è normale perché in primis c'è la privazione della libertà non hai nella maggior parte dei casi una prospettiva di vita non hai un'equip che ti segue e questo è un altro tasso dolente parlando con colleghi psichiatri psicologi eccetera che lavorano nelle carceri evidenziamo il fatto che le ore per esempio in cui vanno nelle istruzioni di periodenziare sono insufficienti rispetto al far bisogno di detenuti sono successi casi in cui il detenuto voleva parlare con lo psicologo aveva bisogno di parlare con lo psicoterapeuta era troppo impegnato e poche ore faceva e quindi ha dovuto parlare con lo psichiatra lo psichiatra a sua volta era prescritto della terapia e tutto finisce là tra l'altro la problematica degli psicofarmaci in carcere è un'altra problematica che si sta attenzionando in quanto come parlavo con una giornalista qualche giorno fa i psicofarmaci all'interno del carcere spesso e volentieri sono una sorta di metadoni di stato per tenere sotto controllo la situazione carceraria e gli psicofarmaci di solito in carcere che si danno sono soprattutto quelli ansiolitici quelli che intervengono sull'ansia l'angoscia perché il detenuto di quello soffre all'inizio causando appunto cosa cominciando a causare problematiche di ansioste repressive o anche comportamenti autolesionisti e quindi c'è questa distribuzione di farmaci senza capire esattamente qual è il problema del detenuto come affrontarlo in che termini intervenire e soprattutto che prospettiva potrebbero avere all'uscita del carcere questo cosa vuol dire vuol dire che in realtà c'è qualcosa che non funziona a livello sociale non so se avete letto qualcosa di Donata Francescato a livello di psicologia di comunità che è molto interessante perché si comincia dal punto di vista delle scienze sociali della ricerca stiamo cominciando a lavorare su un orientamento di tipo psicosociale quindi anche nella riabilitazione con gli utenti psichiatrici stiamo andando un po' oltre la psichiatria tradizionale si sta lavorando sempre con interventi di tipo psicosociale perché il problema è in primis sociale e poi psichico perché e quindi da questo punto di vista il detenuto che è all'interno del carcere quindi detenuto con disagio psichico che possibilità ha di essere preso in carico nessuna perché di fatto non sussiste all'interno del carcere un'equip multidisciplinare che prende il detenuto in carico dall'inizio alla fine esattamente come noi facciamo nelle comunità nelle CTA nei DSM quindi si prende in carico il soggetto dall'inizio c'è uno che lo conosce si fa un colloquio si prescrive la terapia quella necessaria si prescrivono degli interventi a livello rieducativo riabilitativo con gli educatori e si fa un progetto che prevede degli obiettivi delle finalità una prospettiva perché in questo modo il soggetto può essere seguito dall'inizio alla fine del percorso e quando esce dall'istituto penitenziario indipendentemente se verrà inserito all'interno di una struttura oppure rientra a casa comunque ha un supporto ha seguito un percorso all'interno della struttura carceraria non è solamente quello dell'espiare la pena perché è chiaro il carcere esiste perché il detenuto ha commesso un reato e deve spiare una pena ma come risolve come va a riparare il torto che ha commesso perché in Italia la nostra costituzione prevede che comunque il detenuto deve spiare la pena in condizioni comunque decenti non è previsto la tortura perché comunque è una sottile tortura che il detenuto vive soprattutto in alcune realtà carcerarie molto grosse molto grandi quindi la carenza dell'equip che come diceva anche il dottore Arancio c'è una problematica una carenza di psichiatri psicologi risorse chiaramente impoverisce questo supporto che è fondamentale l'impoverimento di questo supporto a cosa porta? porta all'aumento dei suicidi degli atti autoresionistici e la caratteristica di un discusso faccio un incipit fuori trovato il libro di due libri di Katia Mauggeri che farà l'intervento oggi pomeriggio è una giornalista di inchiesta che ha fatto le inchieste molto importanti al carcere delle Bibbie di Augusta vi consiglio di leggerlo ascoltando proprio quelle che sono le verità dei detenuti le condizioni quello che sentono quello che provano le loro difficoltà con una chiave nuova proprio a livello di giornalismo di inchiesta alla presentazione del libro che ha fatto a Catania discutevamo di questa cosa anche con Girono ma che era presente come relatore gli suicidi la cosa che mi ha colpito avvengono soprattutto nella fase iniziale della detenzione e poi nella fase iniziale c'è un caso bellissimo che Katia ha presentato nell'ultimo libro che ha scritto sulle problematiche psicosociali delle donne in carcere caso numero 10 dove questa ragazza si è suicidata il giorno prima di essere dimessa cioè di essere dimessa di essere liberata il giorno prima questo cosa vuol dire vuol dire che c'è qualcosa che non funziona anche a livello sociale e quindi la domanda che vi faccio qual è noi parliamo tanto di carceri molto spesso si rischia di cadere nella retorica rispetto a quello che bisogna fare cioè mi ricordo da quando seguo Radio Radicale da quando ero piccolo con Rita Bernardini Marco Pannella le battaglie fatte però di fatto cosa si è ottenuto la domanda vera è culturalmente a livello sociale cioè noi come società come intendiamo il carcere lo intendiamo come una struttura nella quale la persona che espia la sua pena poi effettivamente ha una chance quando esce oppure lo intendiamo solamente come una struttura come un'istituzione totale punitiva fine a se stessa nella quale il detenuto deve pagare non ci interessa delle sue condizioni e poi quando esce se la fa vedere lui perché comunque c'è sempre il problema poi anche dell'uscita del doppio stigma per esempio in questo caso doppio stigma in che senso nel senso che porta lo stigma da ex detenuto e lo stigma da tra virgolette pazzo soprattutto se una persona che ha avuto problemi di disagio la ragazza questo era il caso numero 10 di Katia che Katia andava all'interno delle celle a fare le interviste ad ascoltare le loro storie faceva il colloquio con il psicologo ok psicologo stanza lo psicologo gli diceva si non ti preoccupare stai tranquilla prima o poi esci tra poco esci stai tranquilla tra poco esci ogni colloquio ripeteva la stessa cosa dice io durante il colloquio affermava la ragazza avevo gli occhi bassi e guardavo sempre la stessa mattonella dietro lo psicologo c'era un muro con le mattonelle e la ragazza guardava sempre la stessa mattonella per colmai era in una fase down cioè depressiva così forte che non aveva proprio il senso della prospettiva cioè di ciò che esco a fare cioè esco a fare per fare cosa per farmi deridere dagli altri per portare il peso della colpa per non trovare un lavoro quindi quello che manca anche oggi è una prospettiva da dare poi a chi ha commesso un reato se intendiamo il reato come uno sbaglio che poi può essere risolto ok tu paghi la tua pena esci e hai la possibilità di essere reinserito per questo una proposta che facciamo come centro studi perché di solito ci saranno un sacco di interventi però una modalità che noi vogliamo attuare è quella proprio di proposte concrete cioè non solo discutere dei problemi ma fare anche delle proposte di intervento agli organi istituzionali quindi nel caso dei detenuti all'interno delle istruzioni penitenziarie esattamente come all'interno delle comunità dove si fanno le dimissioni protette con un supporto all'uscita di assistenza domicilare per un periodo è necessario che l'equip che teoricamente si dovrebbe andare a formare all'interno dell'istituzione penitenziaria preveda con le istituzioni esterne la presa in carico del detenuto con disagio psichico e che lo segue per il percorso dall'uscita finché non riesce a integrarsi all'interno del territorio dal punto di vista relazionale psichico e sociale questi sono passaggi fondamentali uno che ti riduce della ritirazione del reato numero due che permette al soggetto di riacquisire una propria identità perché portare due stigmi appena si esce cioè portare avere un'identità cioè già uscire con un problema e avere paura di quello che gli altri pensano di noi vivere col senso di colpa già è un grosso problema che bisogna affrontare e quindi già l'uscita stessa del detenuto dal carcere è una sconfitta è interessante fare una comparazione tra il in alcuni segmenti tra il carcere e se vogliamo anche le strutture che gestiamo perché non a livello di privazione della libertà o cose varie ma a livello di riscatto anche gli utenti che seguiamo noi hanno una voglia di riscatto una volta che prendono consapevolezza del loro problema vogliono uscire rifarsi una vita reintegrarsi eccetera il detenuto è la stessa cosa per quanto riguarda anche la problematica inerente il senso di colpa del detenuto è molto importante citare alcuni elementi che prevede la riforma cartabile che sembrano come dire insufficienti ma in realtà non lo sono come quello per esempio della giustizia riparativa sulla giustizia riparativa parlando anche con persone che sono esperte nel settore precedentemente ho espresso qualche dubbio però sicuramente è uno strumento qualche dubbio a livello culturale perché chiaramente anche qua c'è un passaggio culturale a fare a livello sociale proprio culturale cioè nel senso giustizia riparativa vuol dire mediazione tra il re o chi ha commesso il reato e la vittima una stanza un tavolo un ambiente confortevole mettersi a confronto è il mediatore a questo ruolo per fare non dico risolvere il problema ma far parlare già il fatto stesso come diceva Gironamo a Catania il fatto stesso che il reo dica il nome della vittima abbia il coraggio di dire il nome della vittima già per lui è una liberazione e sono passaggi psicologici importanti perché ci aiuta aiuta il detenuto in carcere a superare il problema del senso di colpa che è proprio per il reato che ha commesso quindi prima di oltre a prevedere quelli che sono gli interventi noi abbiamo ovviamente dei progetti su cui stiamo lavorando anche in questo caso per cercare di dare una mano all'ASP e mettere in contatto l'ASP con le istituzioni penitenziarie per fornire appunto un supporto maggiore come personale per creare un'equip reale che funzioni e soprattutto cambiare la modalità metodologica cioè che si parlino i componenti dell'equip non che ognuno lavori per i fatti suoi e non si parla ma proprio della presa in carico del detenuto dall'inizio alla fine però ripeto la cosa fondamentale è che secondo me uno dei primi passi da attuare è proprio un'autocritica rispetto alla concessione comune che abbiamo ricarcerato che abbiamo nel detenuto perché secondo me da questo punto di vista siamo molto arretrati molto spesso già quando il detenuto esce fuori ma se è ex detenuto quindi allora è difficile trovare lavoro è difficile reinsedirsi c'è stato un caso interessante di un ragazzo che è spiato la pena in carcere per tanti anni non mi ricordo di fare rapina o cose varie poi è uscito è riuscito a trovare un lavoro a tempo indeterminato cosa che era una cosa quasi impossibile come operaio poi purtroppo è dovuto rientrare in carcere perché doveva scontare un'altra pena piccola e ha perso il lavoro poi è riuscito di nuovo e non ha trovato più lavoro questi sono esempi proprio specifici specifici della problematica è possibile aumentare le misure alternative cioè potenziare quelle che sono le misure alternative l'ultima relazione nella quale il garante ha presentato i dati sui detenuti che partecipano alle misure alternative affermava proprio come per i reati piccoli un anno due anni anche quelli di sei mesi i detenuti sono in carcere e non accedono alle misure alternative ora per questi reati che non sono reati gravi tipo omicidio o altri tipi di reati come mafia eccetera sono reati su cui le misure alternative si possono dare mentre l'accesso ancora alle misure alternative è inferiore rispetto a quello che dovrebbe essere questo è un dato interessante che spiega appunto il garante quando ha redatto la sua la sua relazione allora chiudo invitandovi a fare questa riflessione perché secondo me la prima riflessione deve partire da noi stessi su come intendiamo l'istituzione carceraria vi invito a scrivervi trovate in segreteria l'iscrizione al centro studi per essere sempre informati sulle attività e invitati alle attività che faremo perché è molto importante perché il nostro noi abbiamo un'organizzazione orizzontale quindi apriamo confronti con professionisti di tutti i settori su tutte le tematiche perché è una cosa molto importante vi invito a partecipare per far crescere anche quella che è la realtà culturale niscemese e nissena avremo collaborazioni importanti con l'università di Catania con l'università di Roma eccetera con cui ho già preso dei contatti vi ringrazio molto della partecipazione e grazie a tutti grazie Luca allora invito a relazionare il dottor Girolamo Monaco direttore dell'istituto penale per minorenni centro di prima accoglienza maschile e femminile di Caltanissetta col tema l'esperienza del minore giovane adulto con diagnosi psichiatrica dentro il circuito penale minore io vi ringrazio sono qui soltanto a portare una porzione di esperienza perché penso di essere stato invitato qui in questo convegno proprio per portare un'esperienza particolare piccola forse che è quella dell'istituto penale per i minorenni la realtà dove vengono detenuti i minori che commettono reati dall'età di 15 anni fino a 25 anni a Caltanissetta c'è uno di un IPM in Sicilia sono quattro in Italia in tutto sono 21 la Sicilia è l'unica realtà dove ci sono nella sua regione quattro istituti a Napoli solo due perché questo? perché una volta i reati dei siciliani erano numerosi non lo so so che però e qui voglio ripartire da una cosa importante qualcosa non funziona a livello sociale è 30 anni che io faccio questo lavoro prima a Catania poi a Cireale ora qui a Caltanissetta una volta i detenuti erano rapinatori e ladri e ladri adesso sono una parte minima residuale adesso noi abbiamo reati contro la persona risse che sono diventati tentati omicidi e spaccio mi chiamava in questi giorni il direttore dell'IPM di Milano dice io ho qui quel ragazzo che ha coltellato la professoressa a scuola il nostro è un CPA femminile noi abbiamo avuto la ragazza di bagheria che ha ucciso la madre giorno 2 gennaio di quest'anno allora cambia la società cambiano i reati non è vero che il carcere è una parte separata dalla società il carcere è parte della società è parte di questo stato io dico il carcere anche se non ce ne vogliamo rendere conto è lo specchio di questa società infatti è pieno di reati fatti contro la persona è pieno di stranieri questa è la nostra questa è la nostra allora io da operatore cosa già secondo me il fatto che è patologico secondo me alcune modalità di reati l'omicidio il tentato omicidio alla fine di una discoteca il giovane di 16 anni che se ne va a ballare poi pinafimmina tagliata di fimmina una rissa ne esce un cutello scusate il mio modo di parlare il carcere è un'istituzione totale perché il carcere livella tutti siamo uguali non esiste nonostante la legge lo dice l'individualizzazione del trattamento ma lo nega il carcere è composto da realtà da culture culture di operatori troppo diverse per poter lavorare insieme perché c'è la sicurezza e la sicurezza come viene interpretata rispetto delle regole come se la giustizia fosse la regola rigida obbligata un altro elemento patologico del carcere è che ci sono minori e io ce li ho che entrano perché si devono fare tre anni per una rapina per un fatto e poi escono altri reati fatti in carcere aggressioni oltraggio pubblico ufficiale danneggiamenti uno in un momento in rabbia prende un telecomando lo rompe danneggiamento allo stato reati e poi c'è una procura che li porta avanti e poi c'è un avvocato che li va cioè la situazione diventa è come un e qua mi piace citare Don Milani è come se un ospedale anziché guarire fa malare le persone forse lo sappiamo succede allora allora mi piace a questo punto l'accenno alla giustizia riparativa perché nel regolamento di esecuzione per i minorenni che è diverso quello agli adulti dal 2018 è diverso prima era lo stesso dal 2018 è diverso c'è un accenno molto forte alla giustizia riparativa tant'è che nell'articolo che parla delle punizioni da applicare in carcere una delle punizioni previste c'è l'ammunizione del direttore poi c'è l'isolamento se nei casi chiave l'altra ipotesi è quella della si chiama loro la chiamano attività mirata alla riparazione del danno allora che significa riparare il danno da operatore ci rifletto perché non è soltanto prendere la vittima e appattarsi dire va bene non è successo niente e facciamo pace non è soltanto questo c'è un terzo attore e nelle schede della carpetta c'è perché questo dice il professore Ceretti con il quale io lavoro sul regolamento sulla giustizia per fare veramente riparativa ci vogliono tre elementi il reo che fa un percorso e riconosce riesce a dire il nome alla sua vittima la vittima è la società è la società perché l'obiettivo della giustizia riparativa è il restituire alla società quel soggetto in uno dei primi percorsi in uno dei primi percorsi giustizia riparativa questo percorso finiva con lo scrivere una lettera alla vittima e un giovane detenuto non mi posso dimenticare perché era messinese diceva ha scritto questa cosa io vorrei come vorrei ritornare nel suo bar prendermi un bar un non caffè insieme ma lei finalmente pagarlo allora ritornare nel bar quindi ritornare a casa mia e pagare rispettare le regole con lei che è il padrone del bar dove io ho fatto la rapina allora questo è il cammino virtuoso so che negli uffici di servizio sociale nel web si sta lavorando su questo questo è il senso in tutti i percorsi di giustizia riparativa devono prevedere oltre che i mediatori anche la società e allora e allora che si fa in carcere non si fa soltanto la restituzione della pena cioè tu hai e sei stato condannato e ti saldi non si salda il debito con la pena un anno due anni tre anni cinque anni sette anni ci sono perché fino a 25 anni detenuti minorenni chi sono i detenuti che restano fino a 25 anni quelli che a 16 anni 17 anni hanno fatto reati gravi e già per un minorenne la pena è scontata della metà rispetto ad un adulto quindi un minorenne per avere fatto pene vuol dire che i reati sono gravi le rapine con aggressione i maltrattamenti le violenze sessuali nel carcere di Caltanissette è un istituto piccolo a 12 detenuti 12 due per violenza tre per per reati aggressioni omicidio uno per omicidio e due per tentati omicidio questo è il livello con un'altra cosa da dire che ormai è saltato anche il criterio della territorialità della pena noi a Caltanissette non abbiamo utenza nissena non abbiamo solo un povero sventurato da gel tutta l'utenza è o siciliana o italiana cioè io ho i soggetti di difficile governo di Palermo che poi vengono allontanati per ordine e sicurezza vengono quelli di Catania quelli di Napoli quelli di Milano cioè perché già il carcere è diventato un elemento di così difficile trattamento per cui l'estrema razza è l'allontanamento e allora concludo dicendo questo dobbiamo passare per forza dobbiamo passare no c'ho un altro argomento dobbiamo passare da una giustizia intesa come pena a una giustizia intesa che non può essere intesa soltanto come riabilitativa il detenuto non deve essere soltanto impegnato non c'è la scuola studia non c'è il lavoro imbari il lavoro perché queste cose ti riempiono il tempo ti riempiono forse te lo fanno passare prima però non ti cambiano non ti cambiano cambia invece allora bisogna considerare il trattamento scusate come dimensione la parola è grossa non dico terapeutica ma almeno di cura almeno di cura e la cura è attraverso la riscoperta per me che ho una formazione giuridico pedagogica è una riscoperta del significato una riscoperta del significato ce l'abbiamo noi a Caltanissetta una proposta virtuosa che è quello di un protocollo d'intesa sul rischio suicidario che abbiamo firmato con l'ASP come tutti i protocolli come la costituzione sono degli obiettivi però a noi ci aiutano perché un detenuto anche se non ha diagnosi al primo ingresso viene visto e ad egli viene attribuito un livello di rischio se si individua già dal livello medio parte tutta una serie di osservazioni che possono essere anche accadute o di 72 ore oppure di ogni settimana comunque ci permette di elaborare un percorso che può anche forzare i limiti del trattamento per esempio la legge dice che tu puoi fare alla famiglia solo due telefonate a settimana il protocollo rischio dice che se il bene di quella persona che telefona perché ha un figlio quattro volte a settimana può chiamare quattro volte al telefono cioè la cura è più importante è la legge la persona è più importante è la legge allora se noi riusciamo e forse in questo senso la sanità ci porre l'obbligo proprio di mettere la persona al primo piano anche la legge si potrebbe adeguare il carcere dice che l'ora d'aria è due ore punto il protocollo suicidario ci dice che se quella persona ha bisogno di stare un'ora in più ci può stare lo facciamo a livello sanitario se quello è ciliaco deve mangiare le cose e non lo può fare a livello di salute mentale lo diceva lei dottoressa allora è un cammino è un cammino io sono solo qui solo qui per testimoniare questo cammino che è faticosissimo faticosissimo perché poi come tutti i cammini e forse come soltanto chi lavora nella psichiatria il pericolo più grande viene dal fuoco amico vero dottore il fuoco amico ne vogliamo parlare io no voi il fuoco amico è quello che fa fare e poi è così hai visto tanto è pazzo lo fa apposta questo non fa apposta mi spana la testa lo fa apposta scusate sì allora dunque noi riceviamo ragazzi che arrivano bombardati arrivano bombardati in Tunisia il Rivotril costa 50 centesimi a blister quindi i ragazzi che si fanno le attraversate quelle che poi muoiono partono abbummati allora purtroppo poi che fai ce l'hai ciuruni e noi c'è una polemica molto forte accesa con i miei colleghi del nord perché la sanità lì al nord del Rivotril lo dà a fiume qui invece cerchiamo di ridurre allora noi non abbiamo un neuropsichiatra infantile stabile è a chiamata noi non abbiamo uno psichiatra ma è a chiamata io speravo che c'era qui il dottore Cacciola perché è il direttore anche del DSM di Caltanissetta e anche del Serte avevamo applicato una prassi virtuosa per cui lo psichiatra del Sert veniva una volta a settimana un'ora però com'era utile com'era utile e ora non più bravo dottore bravo dottore bravo dottore bravo dottore bravissimo bravissimo è la famiglia che ci può fare è il povero malato che ci può fare è il povero detenuto io lo so che il sistema è quel e l'ho capito bravo e lo so abbiamo fatto i funerari di Stato a proposito di società di qualche cosa che non funziona nella società è chiaro ma questo discorso Luca è a tutti i livelli anche a livello della scuola è una grossissima il garante a Caltanissetta la scuola nel carcere per i minorenni è cominciata a novembre alcuni professori sono stati nominati a febbraio cioè praticamente questa scuola vale per i professori perché i ragazzi non l'hanno vista mai allora io però non voglio dire in un grido disperato questo si sta no voglio dire che le cose si fanno le facciamo ci sono progetti virtuosi questi ragazzi i nostri ragazzi vengono avviati a lavoro all'esterno anche in laboratori protetti ce n'è uno a Caltanissetta che funziona bene che produce Arancini è gestito insieme a soggetti fragili è un detenuto ogni pomeriggio ci va a fare Arancini tutta la manutenzione del carcere che prima era affidato a una ditta esterna ora è autogestita e detenuti a meno anche non so se voi avete presente fisicamente dove si trova il carcere si trova dove c'è il tribune per i minorenni tutti gli spazi del tribune minorenni quel giardino il parcheggio questi sono curati da giovani in articolo 21 non lo so il carcere è come il manicomio va bene Luca grazie scusate scusate grazie grazie dottore Monaco insomma sono tematiche che scuotono e anche mi complimento per la passione con cui il nostro relatore ha esternato la sua relazione tecnica ma soprattutto appassionata e adesso invito il dottor Raffaele Galluccio psichiatra membro del direttivo nazionale della società italiana di psichiatria democratica il cui argomento riguarda l'equipe multidisciplinare nell'istituzione totale limiti e contraddizioni prego dottore buongiorno io ho fatto lo psichiatra per 40 anni cominciai facendo il consulente in un OPG durai due anni e poi scappai l'OPG di Reggio Emilia in questi 40 anni ho avuto modo di osservare le dinamiche interne all'equipe che lavorano nella salute mentale e ci sono muri e muri ci sono le mura del carcere ci sono le mura delle case e delle famiglie e ci sono le mura impalpabili che non si vedono ma che sono terribili e ci sono le equip che costruiscono quel tipo di muri di mura ora si è necessario per curare la sofferenza psichica dentro o fuori le carcere dentro o fuori le famiglie l'intervento di un'equipe multidisciplinare e si fa tanto parlare di equip multidisciplinare e di programmi personalizzati però non tutte le equip sono uguali ci sono almeno dal mio punto di vista due tipi di equip che hanno esiti completamente diversi ora io devo leggere perché insomma ho scritto una relazione quindi mi scuso se non vado a braccio d'altra parte mia moglie che conosce benissimo la mia tendenza a divagare stamattina mi ha mandato due messaggi primo messaggio stai sul pezzo secondo messaggio stai sul pezzo e allora stiamo sul pezzo e poi ti ha mandato il terzo messaggio e manda poco è quello anche allora io leggo e tagliamo tutto quello che possiamo tagliare ecco qua perché c'avevo una quantità di dati allora dieci minuti cerchiamo di starci se siete generosi riesco a leggere tutto allora io vi premetto la maggior parte delle proposizioni che sono contenute in questa relazione sono di tipo descrittivo e apodittico però se c'è Brusio scusate non si sente bene scusate sono di tipo descrittivo e apodittico e non potevano essere diverse perché il tempo a disposizione giustamente non mi consentiva di illustrarle come sarebbe stato necessario con delle narrazioni quindi vi chiedo scusa e vi chiedo di essere come dire indulgenti e di accontentarvi allora il primo tipo di equip sono due tipi di equip che apparentemente sono uguali perché hanno la stessa dotazione di professionisti ci sono gli psichiatri gli psicologi gli assistenti sociali i terapisti della riabilitazione gli educatori eccetera però funzionano in maniera completamente diversa hanno esiti completamente diversi hanno un tipo di cultura completamente diversa e anche un tipo di struttura dinamica allora la prima io l'ho indicata come equip clinica l'equip clinica definisce come oggetto delle proprie pratiche la malattia mentale intesa come essenza naturale che si manifesta attraverso sintomi specifici alla stregua di qualunque malattia del corpo e come tale da diagnosticare e da trattare con gli strumenti medici prevalentemente capite bene che è un errore di fondo perché trattare un delirio come fosse una febbre è da deliranti però la maggior parte dell'equip oggi che lavorano in salute mentale fanno questo tipo di operazione la descrizione che io ho fatto di queste due equip l'ho tracciata come estremi la maggior parte dell'equip sono un po' in grigio rispetto alle caratteristiche che qui vengono riferite i caratteri dell'equip del servizio clinico sono l'equip è un'equip piramidale la cui caratteristica fondamentale è la gerarchizzazione di ruoli e funzioni rigidamente definite e delimitate la definizione rigida dei ruoli e delle funzioni è necessaria per il mantenimento della conformazione gerarchica del sistema e per confermare la definizione dell'oggetto cioè noi trattiamo la malattia mentale la malattia mentale intesa in senso riduttivo e restrittivo come malattia come in tutti i rami della medicina all'apice della piramide c'è il medico lo psichiatra i membri dell'equip che occupano i livelli inferiori sono sostanzialmente controllori ed esecutori delle direttive mediche e quindi insomma le operazioni che si svolgono quando anche non hanno un carattere medicale netto preciso comunque hanno un chedi clinico anche quando si tratta di fare la psicoterapia si può usare un potente strumento di psicoterapia come per esempio la psicoterapia cognitivo comportamentale per ottenere degli esiti trasformazionali significativi tenendo conto che la psicoterapia è un caso particolare della didattica quindi tu incontri una persona alla quale insegni qualcosa se invece non fai così usi la psicoterapia per smembrare la persona e quindi per correggere delle alterazioni comportamentali per contenere un'impulsività come fossero oggetti separati eccetera l'equip clinica non è consapevole dei propri apparati di precomprensione produce e somministra reificazioni oggettive l'oggetto comportamento l'oggetto impulsività eccetera oppure i sintomi la malattia e i sintomi la relazione con il paziente è una relazione di oggettivazione ogni manifestazione di sofferenza ogni eccesso comportamentale ogni difformità affettiva o di pensiero del paziente viene decontestualizzata destoricizzata e privata di ogni altro senso che non sia quello di rappresentare il disturbo di natura tutto è sintomo le relazioni con il contesto umano e sociale nel quale il servizio agisce sono segnate dalla conferma nel mondo dei normali l'equipe clinica mediante l'esercizio del ritualismo medico e l'ostentazione della propria gerarchizzazione intorno al sapere medico conferma una visione del dolore psichico coartato in malattia mentale destituisce di senso l'esperienza psicotica riducendola a espressione di una disfunzione psichica che si esprime attraverso comportamenti imprevedibili quindi non ha senso come se un delirio o una voce un'allucinazione non avesse oppure uno stato depressivo fosse semplicemente uno stato clinico senza storia senza traumi senza l'influenza delle condizioni di vita concrete in cui questa condizione coglie un essere umano funziona così e quindi la pratica fondamentale dell'equipe clinica è la somministrazione l'equipe clinica somministra pratiche somministra farmaci somministra lavoro somministra ricoveri somministra residenze somministra abitare protetto e somministra soprattutto reificazione somministra è tutta roba da somministrare non ha un esito cioè non parte da un incontro che abbia un esito in una risocializzazione vera in una come dire riconquista di un sistema di relazioni che vadano al di là della malattia e che quindi la salutino in qualche modo se ne allontani l'equipe clinica in conclusione fa parte di un sistema disciplinare Foucault che ha come scopi il controllo e l'eliminazione di comportamenti ritenuti incomprensibili e imprevedibili esso svolge tale compito indicando pratiche tipiche della medicalità e produce la psichiatrizzazione addizionale cioè la sommersione farmacologica la segregazione mediante il ricorso sistematico al ricovero e al suo prolungamento sine die reclusione residenziale l'invalidazione d'immagine la negazione del potere contrattuale l'induzione della dipendenza dai servizi l'equipe clinica ti cintura all'interno di un sistema di relazioni psichiatricamente connotate dove e conclude la tua vita all'interno di quel sistema di relazioni che si svolgano fuori o dentro non ha importanza perché comunque è un dentro senza muri mi spiego allora non c'è potere contrattuale da parte dei pazienti i pazienti vengono come dire catechizzati alla fine se andiamo a guardare lo studio ultimo che è stato fatto in regione Emilia Romagna sulle terapie neurolettiche è uno studio precisissimo terapia per terapie ci sono nella maggior parte dei casi ci sono terapie a tre neurolettici dati alla stessa persona che da quattro anni non cambiano sarà anche un portato della carenza di risorse e quella è innegabile ed è drammatica ma è anche un fatto culturale perché prevale e c'è stata una fase di restaurazione che è ormai conclusa e prevale una come dire una psichiatria neurobiologica e neomanicomialista a proposito degli strumenti di questa psichiatria vi voglio citare quello che ha scritto Allen Franz che è colui che ha guidato la task force che ha elaborato il DSM 4 ha scritto un libro primo non trattare chi è normale quando stava per uscire il DSM 5 allarmato egli stesso da quello che poteva accadere e quello che poteva accadere era l'inflazione diagnostica che abbiamo sotto gli occhi dopo ne parliamo brevemente però prima ve ne leggo queste citazioni mi manca troppo no spero che non mi manchi poco perché ce l'ho tanto ancora allora hai fatto troppa strada la diagnosi basata sul DSM dovrebbe essere considerata come una piccola parte di una valutazione complessiva in grado di spiegare anche gli aspetti più complicati e individuali di ciascun paziente la nostra classificazione dei disturbi mentali non è altro che una collezione di costrutti fallibili e limitati che cercano la verità senza mai trovarla eppure questo rimane il modo prevalente di comunicare e studiare i disturbi mentali la diagnostica è stata una delle peggiori conseguenze del DSM3 ha portato a una crescita esplosiva di farmaci psicotropi non c'è mai stata una reale epidemia di malattia mentale c'è stata una definizione molto sfumata di malattia che ha reso più difficile considerare le persone sane passo ora al secondo tipo di equip il secondo tipo di equip io l'ho nominata equip etica però etico per me lo uso nell'accezione di non tecnico non di equo perché insomma non è che le altre equip non tendano almeno nelle intenzioni ad essere eque proprio l'accezione è non tecnico volevo chiamarla equip dialettica ma poi era complicato spiegare come è la faccenda allora me la sono presa semplice l'equip etica ha come oggetti del suo agire l'angoscia umana in quelle forme particolari di espressione e di presentazione che è l'esistenza psicotica l'esistenza psicotica o folle ha come oggetto la coazione comportamentale e i disturbi della relazione si occupa quest'equip del dolore psichico e della follia della relazione tra follia e normalità e della difficile relazione tra folli e normali rispetto a tali oggetti l'operatore del servizio etico si muove come un ricercatore e più specificamente ricerca senso e connotazioni sia della follia che della normalità ricerca e attua prassi contingenti e transitorie che attenuino l'angoscia ricerca e attua pratiche che mirino a produrre l'evoluzione della relazione tra fogli e normali verso una connotazione di tipo dialettico un esempio ce l'abbiamo qua in questa struttura di questo tipo di attività agisce per migliorare la condizione esistentiva dei fogli un altro esempio ce l'abbiamo anche di questo ce l'abbiamo qui in questa struttura l'equip del servizio etico è un'equip a leadership diffusa in tale equip la gerarchia è funzione non di una presunta detenzione di verità sull'oggetto sul rimedio cioè è una malattia io sono il medico so io cos'è e cosa bisogna fare no la distribuzione delle cioè ma della distribuzione delle responsabilità tale equip pertanto opera relativizzando attivamente i ruoli le identità e le professionalità il processo decisionale coinvolge ogni membro dell'equip perché non esiste un'unica visione privilegiata che meglio definisca i problemi i bisogni e le possibili risposte può esistere piuttosto una visione competente rispetto al caso contingente che si caratterizza per la miglior conoscenza rispetto al problema specifico e che prescinde da ruolo e professione lo psichiatra ha conoscenze specifiche relativamente alla terapia e alla clinica ma certamente non ha conoscenze particolari riguardo al lavoro all'abitare al senso della sofferenza che è un'operazione difficile ma necessaria il disvelamento del senso è un'operazione necessaria per la cura l'equipetica ha rapporto con colui che soffre cerca col paziente un'alleanza che non escluda il conflitto ma che comporti un confronto ed una dialettica continua su ogni decisione da prendere e ogni azione da compiere sia che si tratti di aggiornare le terapie farmacologiche sia che si tratti di tracciare i confini entro i quali la relazione deve svolgersi non è che non usa farmaci e non usa gli strumenti della medicalità ma come strumenti contingenti e non privilegiati rispetto ad altri strumenti anzi si valuta da caso a caso ma gli strumenti privilegiati sono quelli della pratica sociale per questo tipo di equipe la pratica fondamentale del servizio etico è l'istigazione sistematica all'incontro l'equipe etica svolge come quella del servizio clinico pratiche di tipo medico e utilizza la diagnosi come strumento contingente parziale per interventi circoscritti non privilegiati che concorrano al pari di tutti gli altri tipi di intervento alla risoluzione dell'angoscia tale equip assume pienamente il compito di trattare gli aspetti non medicali della sofferenza svolge cioè la pratica sociale è attiva per svolgere pratiche di inclusione io ho fatto un mio personale elenco delle pratiche di inclusione perché l'inclusione è l'esito a cui tendiamo e le ho classificate in due modi prendetela come una cosa artigianale serviva a me per lavorare le ho divise in pratiche di primo livello che sono la restituzione dei diritti di cittadinanza percorso per l'acquisizione del diritto al lavoro qua ci lavorano egregiamente per quello che ho visto anzi abitare assistito il diritto alla casa il tempo libero il diritto alla cura di sé anche il diritto alla soddisfazione istintuale siamo tutti uomini e donne che abbiamo voglia di sesso è una cosa buona tante volte poi ci sono le pratiche di secondo livello avrei voluto narrarvele insomma spiegarvi come le abbiamo messe in atto noi quando io ho diretto un servizio e ho cercato di trasformare questo servizio che era prevalentemente clinico in un servizio etico attuando organizzando formando gli operatori organizzando questo tipo e attuando questo tipo di pratiche ve le posso solo nominare allora pratiche volte al disvelamento del senso le attività espressive il restauro del delirio persone che non riuscivano a delirare bene noi le aiutavamo a delirare meglio mi riderete in faccia però se vuoi lenire l'angoscia di una persona che ha bisogno di delirare siccome il delirio è una estrema difesa dall'angoscia se sta perdendo il delirio lo sta frammentando devi aiutarlo a ricostruire la biografia e la donazione di senso all'esperienza psicotica cioè il ritrovare aiutare la persona a riscontrare nella propria storia le radici della propria sofferenza negli episodi che l'hanno traumatizzato come diceva nel tipo di vita che ha fatto in che modo è stato influenzato dall'ambiente in cui è cresciuto eccetera quindi qui la follia la follia è concepita come dimensione del senso ineludibile e fondamentale e la cura è intesa come rimedio all'angoscia e alla separazione adesso taglio 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 e vi leggo un decalogo che ho tratto due minuti faccio il tempo vi leggo un decalogo che ho tratto da questo librettino del mio maestro si intitola esclusione sofferenza guerra ho estratto alcune proposizioni che mi sembravano potessero essere messe in fila e che il cui contenuto secondo me può utilmente o adeguatamente fare da orizzonte di senso per qualunque equip volesse veramente curare la sofferenza psichica e non solo quella allora prima proposizione vado avanti non ve le numero nel presente periodo in relazione al formarsi di aggregazioni umane sempre più vaste e confluenti e allo sviluppo di tecnologie capaci di distruggere la vita nonché di modificare l'ambiente naturale la pace è la sola possibilità che si dia per la sopravvivenza della specie la guerra lo sfruttamento di popoli militarmente deboli la rapina delle risorse la negazione del diritto alla sopravvivenza il dominio dei ricchi sui poveri e dei forti sui deboli la distruzione della natura tutto ciò si collega senza soluzione di continuità con le condizioni di esclusione sociale circoscritta e di violenza diffusa le forme di esclusione a fascia versus le donne le persone di diversa condizione sociale le persone di diversa cultura o lingua o aspetto esterno gli omosessuali transessuali disoccupati eccetera e l'esclusione circoscritta versus i disabili i malati di mente i senza dimora eccetera si costituiscono come negazione di diritti delle persone perseguitate e come stato di guerra contro di esse la guerra fra gli esseri umani si rivela in ogni forma di odio di aggressività di oppressione di persecuzione di sadismo macrosociale microsociale e singolare la violenza carnale contro le donne e i bambini non è un comportamento sessuale ma dalla notte dei tempi un episodio di guerra un modo forte del trionfo vittorioso un asserimento di dominio una forma suprema di odio e disprezzo quella sofferenza oscura che viene comunemente detta malattia mentale depressione nevrosi disadattamento condizione psicopatologica è impregnata di esclusione sociale e di guerra talora già nel suo determinarsi sovente nel suo radicarsi e complicarsi sempre nella sua immersione sociale e nelle relazioni che vi attengono qualunque modo della cura che non tenga conto di questa realtà è destinato a rivelarsi come un ulteriore atto di guerra contro la singolarità sofferente una maggiore e più grave esclusione l'esclusione e la guerra impediscono al singolo il mutamento della sofferenza in progetto di vita in potenza di espressione in capacità di modificare o rendere agibili le condizioni microsociali circostanti e ultimo le formule dei manuali impediscono la ricerca escludono la comprensione situazionale rendono impossibile l'antagonizzazione dell'esclusione sociale e personale condannano all'irreversibilità della sofferenza esse sono del tutto inattendibili scientificamente e sono gravemente nocive per la cura della sofferenza singolare in relazione all'opagamento esistentivo e relazionale che ne deriva grazie per la cortese attenzione grazie dottore veramente bravo grazie dottore Galluzzo e adesso ci avviamo verso il break concludiamo con la dottoressa Serena Berenato magistrato giudice tutelare per il tribunale di Gela anche giudice penale mi suggerisco come vuole no così va benissimo si sente? quindi la gentilezza è la seguente 10 minuti 15 minuti sì sì sarò brevissimo e poi facciamo il break il break sarà 15 minuti e rientriamo quindi l'impegno d'aula rispetto a noi è che se riusciamo poi col break dell'uno e mezza e gli ultimi due interventi entro le tre tre e mezza dovremmo completare anche il questionario ECM quindi tutti i colori quali non riescono a mantenere in aula l'attenzione sono pregati porta in basso o porta a destra a uscire in silenzio grazie allora anzitutto buongiorno a tutti sono Serena sono Serena Berenato giudice tutelare e anche giudice penale del tribunale di Gela e quindi oggi mi permetto di portare la mia esperienza sotto entrambi i punti di vista perché io chiaramente il soggetto fragile lo chiamo volutamente così non lo chiamo soggetto affetto da patologia psichiatrica perché il soggetto fragile non è solo un soggetto clinicamente malato evidentemente il detenuto è un soggetto fragile ma prima di addentrarci nella mia breve e spero proficua relazione vorrei anzitutto portarvi i saluti del presidente del tribunale del dottore Riggio che oggi non ha potuto essere presente però ricorda con estremo piacere l'anno scorso il convegno al quale ha partecipato ricambiamo il saluto grazie e vorrei soprattutto ringraziare i relatori che mi hanno preceduto per l'arricchimento professionale permettetemi di dire anche umano e che sono sicura anche i relatori che verranno apporteranno a noi e a tutti insomma gli intervenuti proprio grazie ai vostri spunti ho deciso di rimodulare il mio intervento perché credo che ciascuno di voi abbia lanciato degli appelli che non possono essere ignorati dall'istituzione che in qualche modo mi pregio di rappresentare comincio in premessa dal dottore Arancio col quale evidentemente il mio rapporto è particolarmente stretto oggi il piacere di conoscerlo è come giudice penale perché lei parlava delle misure di sicurezza e sono un dramma sono un dramma per noi infinito perché noi abbiamo la necessità di tutelare l'autore di reato che ha diritto alla cura a un percorso dedicato ma abbiamo il dovere come autorità giudiziaria di tutelare in fretta anche la comunità spesso l'autore di reato è pericoloso e questo non possiamo nascondercelo e l'autore di reato pericoloso è un malato psichiatrico e ha bisogno di cure in un dialogo con il garante nazionale dei detenuti siamo addivenuti appunto alla conclusione che c'è un problema e che il sistema delle REMS andrebbe profondamente riformato se vogliamo che sia effettivo non solo lei parlava di TSO da giudice tutelare sono il giudice che per il tribunale di Gelo e tutto il circondario convalida il TSO è un dramma permettetemi di dire che è un dramma l'ultimo TSO che ho convalidato era per un minore in crisi di astinenza abbiamo un problema sociale ed è un problema sociale che parte anche dalle scuole mi permetto di dire questo vi dirò più avanti perché e come l'ho sperimentato proprio in relazione all'uscita del detenuto e a come la società lo riaccoglie al suo interno se lo raccoglie e quando lo riaccoglie allora non mi ripeterò su quello che è già stato detto all'interno del carcere con me tenteremo di uscire dal carcere o dalle strutture in cui l'autore di reato permane ora diceva il dottore Monaco l'uscita dal carcere è una sconfitta mi permetto di fare un passo avanti l'uscita dal carcere è sicuramente un trauma molte volte è una sconfitta a noi spetta il compito di renderla un'opportunità come la possiamo rendere un'opportunità e anche qui dottore mi riporto a quello che lei dice la legge deve adeguarsi la legge c'è mi riferisco all'amministrazione di sostegno a noi operatori del diritto spetta interpretarla in linea con i principi costituzionali adeguandola conoscendola profondamente perché solo la conoscenza effettiva degli strumenti normativi che noi abbiamo ci consente di interpretarli in maniera estensiva e quindi di adattarli alle persone perché nel campo dell'amministrazione di sostegno nel campo dei soggetti fragili evidentemente abbiamo a che fare con persone in tutti gli altri campi del diritto ma consentitemi quello che fa il giudice tutelare è forse il ruolo più particolare consentitemi uno dei più belli perché ha a che fare con le persone nel loro divenire nei loro cambiamenti nei loro bisogni di tutti i giorni il dottore Galluccio faceva riferimento alla sessualità ma il problema è stato più reale anche per il giudice tutelare che spesso si trova a dialogare con l'amministratore di sostegno consentitemi senza gli strumenti per farlo in una carenza assoluta da parte di tutti gli altri servizi servizio psichiatrico servizi sociali allora dicevamo usciamo dal carcere all'uscita del carcere evidentemente il soggetto ha bisogno di un'equipo multidisciplinare ne sono fermamente convinta e per questo ringrazio la comunità per aver organizzato questi incontri e aver permesso a noi operatori di dialogare e di incontrarci su alcuni temi importanti che cosa può fare l'amministrazione di sostegno all'uscita del carcere allora vedete l'amministrazione di sostegno lo dico per avere velocemente rinfrescate rinfrescate le coordinate di questo strumento all'inizio nasce come strumento che appunto necessita di una menomazione fisica o psichica e quindi una concezione medicalista dell'amministrazione di sostegno pur tuttavia col tempo e anche nelle intenzioni dello stesso padre della legge sull'amministrazione di sostegno diventa una concezione funzionale non ci serve più la menomazione fisica o psichica la possiamo applicare la Cassazione fa un po' fatica ad adeguarsi su questo punto noi tribunali di merito invece siamo più sul pezzo mi permetto di dire anche da un punto di vista funzionale ossia può essere sottoposto ad amministrazione di sostegno ovviamente poi c'è il consenso del beneficiario che apre tutta un'ampia gamma di discussioni e di confronti anche a quelle persone che non hanno una patologia psichiatrica in senso stretto eppure presentano difficoltà di nuovo il soggetto che evidentemente è stato detenuto ed è stato detenuto per lungo tempo magari non ha una patologia clinica sicuramente è un soggetto fragile ed è un soggetto che ha delle difficoltà nel reinserimento e allora come possiamo aiutarlo questo soggetto possiamo aiutarlo con l'amministrazione di sostegno previo accertamento ovviamente che il soggetto effettivamente non sia in grado di attendere i propri interessi quali interessi patrimoniali si diceva una volta siamo andati avanti anche personali perché evidentemente un soggetto che esce dal carcere non ha un patrimonio da gestire purtroppo ma ha una vita da gestire ed ha soprattutto una vita da ricostruire può in questo caso la figura dell'amministratore di sostegno aiutarlo previ requisiti appunto di accertare questa impossibilità di attendere al proprio bisogno che nella mia esperienza per quanto limitata può essere un'impossibilità purtroppo a volte anche cognitiva spesso molti autori di reati hanno un deficit cognitivo che viene sfruttato e utilizzato dalle organizzazioni criminali perché il soggetto autore di reato con deficit cognitivo molto probabilmente sarà poi un soggetto che non va in carcere ma si prende una misura di sicurezza sarà un non imputabile e ancora una volta l'importanza della società nelle persone fragili di come possa la società in qualche modo riuscire ad invertire la strada purtroppo spesso segnata di questi soggetti l'amministratore di sostegno appunto viene nominato dal giudice previo accertamento dei requisiti di cui parliamo sopra ecco perché il giudice ha un ruolo fondamentale nell'ascolto della persona beneficiaria come avviene questo ascolto spesso sempre il giudice questo ascolto lo fa da solo ed è un giudice e qui bisogna fare mea culpa che non è formato io non ho una formazione psichiatrica non ho una formazione sociologica non ho alcuni degli strumenti che invece sarebbero necessari per ascoltare appieno e per comprendere appieno il disagio del mio beneficiario ecco perché credo che nelle udienze sempre più spesso debbano partecipare gli psichiatri soprattutto e mi rendo conto il dottore Arancio sorride che voi lo so lo so dottore è un dramma però in alcuni dei soggetti beneficiari che io seguo e che stanno migliorando ho bisogno di un conforto medico ecco la multidisciplinarietà il giudice da solo non può prendere alcune decisioni è purtroppo un dato di fatto ci dispiace ma è un dato di fatto reale altrimenti rischia di sbagliare e di fare un danno ancora più grosso dell'aiuto che vorrebbe portare cosa può fare l'amministratore di sostegno per ritornare al tema allora dicevamo l'amministratore di sostegno certamente può curare gli interessi personali quali sono gli interessi personali sicuramente l'interesse a proseguire un percorso terapeutico intendiamoci subito l'amministratore di sostegno così come nessun'altra figura anche di autorità giudiziaria a parte il TSO può mai sostituirsi al consenso nelle cure il consenso nelle cure è personale il ricovero nelle strutture è sempre personale non esistono ricoveri coatti se non quelli del TSO comunque convalidati da un giudice e allora cosa fa l'amministratore di sostegno l'amministratore di sostegno insieme al giudice evidentemente può creare una sinergia virtuosa nell'aiutare il soggetto ad aderire alle cure qualora non voglia aderire ovvero a proseguirle nella misura corretta e nel modo corretto cosa intendo per corretto spesso appunto il DSM ha solo due psichiatri non possiamo pretendere che segua personalmente ciascuno l'amministratore di sostegno invece può farlo l'amministratore di sostegno col suo amministrato ha un rapporto che è assolutamente personale e chiaramente fa da sponda in questo percorso il giudice che spesso si trova anche a mediare su mancati consensi su dissensi su frizioni anche importanti rispetto alla cura e al percorso del soggetto questo per quanto riguarda un soggetto che sia autore di reato e che abbia patologie in qualche modo psichiatriche poi ci sono invece i soggetti di reato che clinicamente sono sani permettetemi io sto parlando in maniera assolutamente a tecnica mi scuso con tutti i medici gli psichiatri gli psicologi presenti e che però hanno delle fragilità e qui torniamo ad esempio al diritto all'abitazione nell'esperienza del Regina Celi che è certamente più ampia e conosce più casi della nostra l'associazione che fa volontariato all'interno di Regina Celi il fondatore chiacchierando ha rappresentato quello che è uno dei problemi più importanti ossia il detenuto ha scontato la pena esce dal carcere non trova un'abitazione chi affitta una casa a una persona detenuta questo ad esempio è un problema sociale andiamo alla fase 2 chi dà un lavoro a una persona detenuta ecco qui mi ritorno a quello che dicevo in premessa sulla società con l'ordine degli avvocati di Gela che per questo ringrazio abbiamo fatto un progetto nelle scuole di simulazione di un processo e di educazione in senso lato alla legalità abbiamo chiacchierato anche con loro apertamente e appunto chiacchieravamo di pene alternative il carcere la sostituzione della pena che adesso la riforma cartabia ci chiede a cui fatichiamo ad adeguarci ma che è corretta e va applicata e però dicevamo abbiamo fatto con i colleghi questa domanda ai ragazzi ma voi un detenuto lo prendereste a lavorare nella vostra pizzeria una signora detenuta l'assumereste in casa come badante allora io mi sarei aspettata che dai ragazzi 16 anni 17 anni ci fosse un afflato di entusiasmo non c'è è molto triste da constatare ma solo un ragazzo ha risposto dicendo sì lo prenderei a lavorare in pizzeria non me lo metterei mai in casa anche questo è una questione che va affrontata la società deve riflettere e deve riflettere sulla direzione che vuole prendere per non parlare del fatto che sulla direzione che in realtà ha già preso perché se dei ragazzi di 16 anni sono così convinti che non esista una seconda possibilità forse insomma in qualche modo dobbiamo dobbiamo riflettere senza essere attenzione questo non vuole essere un discorso indulgente non lo è perché dall'altro lato faccio il giudice penale commino reclusioni multe arresti e ammendi quindi non non sono inclini ad essere indulgente è però neanche giustizialista il carcere nella nostra costituzione ha un ruolo e questo deve essere rispettato anzitutto dagli operatori del diritto allora torniamo appunto alla valorizzazione all'interno dell'amministratore di sostegno quindi l'amministratore di sostegno ad esempio ben può supportare una volta che l'autore di reato è uscito dal carcere nella ricerca di un lavoro come una garanzia nella ricerca di un immobile anche in questo caso può rappresentare una garanzia perché vedete l'amministrazione di sostegno si struttura lungo due binari l'amministratore ha poteri di rappresentanza ovvero sia di azione in nome e per conto del beneficiario quindi il potere di firma più ampio il potere di gestione del conto il potere di pagamento delle spese di presentazione di istanze alla pubblica amministrazione di firma dei consensi con accordo del beneficiario ovviamente previo confronto continuo col giudice tutelare ma c'è anche un'altra forma che io immagino essere la più adeguata alla problematica di cui noi oggi stiamo parlando ed è quella dell'assistenza ossia costruire una misura in cui l'amministratore di sostegno assista ad esempio anche in accordo previo consenso previo confronto del beneficiario il beneficiario nell'esplicazione di tante delle sue funzioni quale può essere appunto la firma di un contratto la gestione di un conto perché spesso magari queste persone riescono poi ad avere dei sussidi e perché no bisogna anche vigilare che questi sussidi riescano reinvestirli su di loro e per la loro crescita e non per rientrare magari in circuiti poco virtuosi come spesso anche questo è innegabile purtroppo accade perché noi non possiamo lamentarci della recidivanza se nulla facciamo per annullarla questa recidivanza è chiaro che è un cane che si morde la coda è altrettanto chiaro che siamo tutti mi consento di dire allo stremo i servizi sociali il DSM anche il tribunale è allo stremo noi abbiamo un bacino di utenza Gela Niscemi Mazzarino e Butera di circa 120.000 persone con un tasso di malattia psichiatrica veramente impressionante consentitemi di dire anche questo i giudici tutelari siamo due io sono il giudice toccato e c'è un altro giudice onorario che fa un lavoro egregio veramente per portare avanti la baracca purtroppo c'è molto poco da dire che non sia questo e cerchiamo di lavorare per i nostri amministrati io credo che sia essenziale conoscere i nostri amministrati per nome di allogare cercare nei limiti del possibile di ricordarci la loro storia anche perché io spesso questi autori di reato li vedo ovviamente non le stesse persone da entrambi i punti di vista li vedo come giudice penale vedo come il processo penale funziona vedo qual è la finalizzazione del processo penale e vedo il loro comportamento all'interno del processo penale apatico di silenzio di assoluta non c'è una partecipazione li vedo poi invece ovviamente altri soggetti quale giudice tutelare è tutta un'altra cosa viene fuori appunto il livello umano la voglia in alcuni casi anche di riscatto le difficoltà che il giudice penale ha valutato solo sotto un certo punto di vista il giudice tutelare con l'amministratore di sostegno è chiamato invece a valutare sotto altri punti di vista vengo alla conclusione spero di essere almeno riuscita a darvi un'idea di questa figura dell'amministratore di sostegno ovviamente il ruolo del giudice in questo caso può essere di aiuto perché il giudice tutelare è un giudice particolare è un giudice che appunto può in qualche modo fungere da collante può fungere da mediatore e l'udienza può fungere da punto e momento anche molto deformalizzato in cui le varie parti che sono coinvolte nel percorso del soggetto fragile autore di reato ma anche non autore di reato possono dialogare anche senza filtri ma in presenza di una terza persona quale poi è la funzione del giudice che in qualche modo può fare da mediatore e può assumere quell'autorevolezza che consente al soggetto autore di reato che attenzione spesso rispetta il magistrato il soggetto autore di reato rispetta il magistrato perché il magistrato fa il suo lavoro e lo giudica e questo è un legame che il magistrato deve imparare a sfruttare secondo me il rispetto per cercare di imprimere anche una direzione dopo aver combinato la sanzione e a proposito di senso ho gradito molto e lo condivido profondamente in riferimento al senso che hanno fatto tutti i relatori prima di me vi vorrei lasciare ringraziandovi di nuovo con una frase di un'antropologa americana che ho scoperto da poco e che a me è molto cara e mi scuso con gli avvocati di Gela che se la risentono dire dopo il corso sì che abbiamo fatto insieme questa antropologa americana facendo lezione ai suoi studenti uno studente ha chiesto quando è che la civiltà può dirsi iniziata cominciata quando abbiamo fatto il salto di qualità e allora tutti si aspettavano l'invenzione della ruota altre invenzioni storiche e lei rispose quando un femore rotto è riuscito a guarire dice professoressa che vuol dire? vuol dire esatto vuol dire la cura vuol dire che se un animale si fosse rotto una gamba non sarebbe sopravvissuto perché se lo mangiano perché muore di fame perché lo lasciano indietro se un femore rotto guarisce vuol dire che c'è una comunità che si è presa cura di quella persona l'ha curata l'ha protetta l'ha sorvegliata e soprattutto ha dato a questa persona il tempo di riprendersi e di rimettersi in sesto ecco finora abbiamo parlato del senso di dare un senso a loro io credo che anche noi operatori dobbiamo avere un senso e mi permetto umilmente di suggerire il senso in questa bellissima frase di Margaret Maed grazie ancora grazie dottoressa siamo stati veramente onorati di averla avuto e così giovane e così brava per noi donne è un grandissimo riscatto io adesso vi invito al coffee break e riprendiamo fra 15 minuti esatti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti